Scomposizione di un polinomio Per vedere questa tecnica dobbiamo fare due richiami, un polinomio qualsiasi come al solito lo possiamo scrivere come il divisore per il quoziente più il resto. Inoltre abbiamo visto dal teorema del resto di Ruffini che un polinomio calcolato nella A ci dà il resto dove A non è nient'altro che il termine noto del divisore cambiato di segno. Abbiamo visto che il divisore di Ruffini è uguale a x-a quindi ha una forma del tipo binomio di primo grado con il coefficiente della x pari ad 1. Ovviamente A può essere sia positivo sia negativo, questo non ha importanza come abbiamo visto nei video precedenti. Partiamo dal presupposto che scomporre un polinomio tramite Ruffini non si può effettuare sempre. Inoltre se potete evitare questo tipo di scomposizione fatelo perché come vedremo questa scomposizione è abbastanza noiosa ed è anche abbastanza lunga. Quindi se potete utilizzare un qualsiasi altro metodo fatelo. In cosa consiste questa scomposizione di Ruffini? Come abbiamo detto la scomposizione in generale rappresenta proprio l'operazione inversa di un prodotto. Quindi noi partiamo da un polinomio per arrivare proprio al prodotto tra due o più polinomi. Ma per arrivare al prodotto tra due o più polinomi utilizzando Ruffini è necessario avere il resto pari a zero. Infatti se questo resto all'interno della formula viene pari a zero allora questo si annulla e abbiamo proprio che un polinomio lo scriviamo come il divisore per il quotiente. Quindi abbiamo effettuato una scomposizione. Quindi in realtà scomporre un polinomio tramite Ruffini consiste proprio nell'andare alla ricerca di un divisore che è il divisore di Ruffini tale che ci dia diciamo CT di fuori tramite il teorema del resto di Ruffini un resto pari a zero. Quindi noi dobbiamo trovare un divisore che divide perfettamente il nostro polinomio. Una volta trovato questo divisore basterà utilizzare il teorema Ruffini per risalire al quotiente e quindi per risalire alla scomposizione definitiva. Per trovare però questo divisore dobbiamo fare alcuni passaggi. Infatti noi sappiamo che è della forma X meno A però noi non abbiamo nessuna informazione relativa ad A. Quindi in linea di principio noi dobbiamo provare tutti i numeri possibili. Cioè al posto di A dobbiamo inserire 1, meno 1, 2, meno 2 e così via. Quindi dobbiamo provare tutti i possibili valori. Però qui ci viene in soccorso un teorema. Se noi proviamo tutti i numeri chiaramente impieghiamo un tempo infinito. Impieghiamo una fatica assurda anche perché alcuni di questi numeri sicuramente non saranno validi. Noi vi ripeto che dobbiamo trovare un numero tale che quel divisore divida perfettamente il polinomio. Quindi in realtà quando andiamo a provare un qualsiasi numero noi dobbiamo inserirlo cambiato di segno al polinomio di partenza per vedere se il resto ci viene zero. Ci viene quindi in soccorso per evitare di effettuare questa cosa un teorema che si chiama teorema delle radici razionali. Questo teorema che cosa ci dice? Che se noi abbiamo un qualsiasi polinomio della forma ANX alla N più AN-1X alla N-1 e così via fino ad arrivare ad A alla 0X alla 0 allora cosa succede? Che se questi coefficienti cioè AN, AN-1 e così via sono dei numeri razionali allora una qualsiasi soluzione di questo polinomio la dobbiamo cercare tra P su Q dove P rappresenta, quindi la soluzione sarà di questo tipo, dove P rappresentano i divisori del termine noto quindi i divisori di A con 0 mentre Q sono i divisori di A con N. Quindi che significa questo teorema? Che in realtà noi A non dobbiamo cercarlo a caso ma dobbiamo trovarlo tra i divisori del termine noto, del polinomio di partenza diviso i divisori del coefficiente A con N che rappresenta il coefficiente direttivo di un polinomio cioè il coefficiente del monomio che è a grado più alto all'interno del polinomio. In realtà in generale A con N di solito è pari ad 1 ma se A con N è pari ad 1 allora A va cercato tra i divisori del termine noto cioè tra i divisori di A con 0. Ora cerchiamo di capire il perché questa cosa è valida e perché diciamo che ha un senso questa cosa che abbiamo appena detto. Se noi andiamo a moltiplicare ad esempio x meno A per x meno B se voi fate questo prodotto ci accorgiamo subito del fatto che il termine noto del polinomio risultato non sarà nient'altro che meno A per meno B perché sono i due termini noti questo ci darà A con 0 che è il termine noto del polinomio che verrà come risultato voi potete anche fare una prova di questo fatto quindi che significa? Che in realtà quando cerchiamo A con 0 è chiaro che questo, anzi quando cerchiamo A, meno A è chiaro che questo deve essere un divisore di A con 0 perché il prodotto tra meno A e meno B ci deve venire fuori A con 0. Quindi in realtà A entra in scena quando noi dobbiamo andarlo a moltiplicare per un altro termine noto per fornire proprio il termine noto del polinomio di partenza quindi detto in maniera semplice se il coefficiente direttivo del polinomio di partenza è pari ad 1 allora A va cercato tra i divisori del termine noto del polinomio di partenza ovviamente non sempre A con n è uguale ad 1 in quel caso bisogna effettuare la divisione quindi fare tutte le varie combinazioni tra i divisori ma questo lo vediamo in un esempio in un video successivo andiamo adesso a fare un esempio concreto per vedere di cosa stiamo parlando supponiamo di voler scomporre x al quadrato più 5x più 6 questa che cosa è uguale? beh, dobbiamo trovare il divisore di Ruffini come facciamo? intanto A va cercato tra quali divisori? beh, in questo caso A con n che è il coefficiente che sta davanti a x al quadrato è 1 quindi dobbiamo cercarlo tra i divisori del termine noto quindi tra i divisori di 6 i divisori di 6 sono più o meno 1 ovviamente dobbiamo inserire anche quello con il segno meno più o meno 2 più o meno 3 e poi ovviamente più o meno 6 questa cosa cosa significa? che noi A dobbiamo cercarlo tra questi 8 valori se non lo troviamo tra questi 8 valori cioè sostituendo questi 8 valori al teorema del resto di Ruffini ci viene sempre un risultato diverso da 0 allora significa che questo polinomio non si può scomporre utilizzando il metodo di Ruffini quindi dobbiamo cambiare metodo ovviamente noi dobbiamo effettuare delle prove cioè questi 8 valori noi dobbiamo andarli a provare finché non troviamo il resto pari a 0 quindi in realtà è un procedimento abbastanza lungo anche se andiamo a ridurre il range di A cioè un conto prima siamo partiti da dover trovare A in un range infinito adesso dobbiamo trovare A tra 8 valori allora dobbiamo fare delle prove proviamo il divisore X meno 1 allora provare il divisore X meno 1 significa che A è pari ad 1 quindi dobbiamo effettuare calcolare P in A che è uguale a P in 1 perché ovviamente qui A è meno 1 qui dobbiamo cambiare il disegno quindi 1 andiamo a sostituire al posto di X mettiamo 1 quindi 1 al quadrato quindi 1 più 5 più 6 e questo ci dà un risultato che è sicuramente diverso a 0 notiamo una cosa intanto questo divisore non va bene perché non ci ha fornito un resto pari a 0 vi ricordo che noi dobbiamo trovare un resto pari a 0 altrimenti non riusciamo a fare la scomposizione notiamo un piccolo particolare questo ragionamento ci servirà per ridurre il numero di prove che dobbiamo effettuare in generale qui andare a inserire dei numeri positivi non ha senso perché qui abbiamo la somma di 3 elementi positivi ma se abbiamo la somma di 3 elementi positivi se andiamo a sostituire un elemento positivo questo ci verrà sicuramente un risultato maggiore di 0 quindi non ha senso il che significa che ha senso andare a provare solo i numeri negativi quindi dobbiamo provare X più 1 perché questo ha senso provarlo? perché dobbiamo calcolare P di meno 1 quindi è un numero negativo allora questo che cosa è uguale? meno 1 al quadrato fa 1 meno 5 più 6 questo ci dà un risultato che è diverso da 0 quindi in questo divisore non va bene andiamo a provare X più 2 come avete detto ho saltato la prova X meno 2 perché? l'ho saltata perché dovremmo andare a inserire 2 perché dobbiamo cambiare i segni e quindi un numero positivo che non ha senso andare a provare per le ragioni che ho detto prima proviamo quindi P di meno 2 P di meno 2 è che cosa è uguale? meno 2 al quadrato fa 4 meno 2 per 5 fa meno 10 più 6 e magicamente ci è venuto un risultato pari a 0 quindi questo divisore va bene quindi che significa? significa che noi dobbiamo prendere il polinomio di partenza e dividerlo per questo divisore il quotiente come lo troviamo? dobbiamo utilizzare la regola di Ruffini che abbiamo visto nei video precedenti usiamola subito allora i coefficienti sono 1, 5 e 6 che viene messo fuori perché il termine è noto dobbiamo costruire la solita tabella qui dobbiamo inserire il termine noto cambiato di segno del divisore quindi meno 2 qui abbiamo 1, qui abbiamo meno 2, qui abbiamo 3 meno 2 per 3 fa meno 6 e qui abbiamo 0 ovviamente quando utilizziamo poi la regola di Ruffini deve venirci sempre un resto pari a 0 se non ci viene 0 abbiamo sbagliato qualcosa ora il quotiente lo troviamo da questi coefficienti perché il polinomio di partenza era di grado 2 quindi questo è riferito a grado 1 e questo a grado 0 quindi che significa che possiamo scrivere la seguente cosa il quotiente è uguale a x più 3 perché i coefficienti sono 1 e 3 in definitiva in definitiva il polinomio di partenza lo scomponiamo nel seguente modo x più 2 che moltiplica x più 3 se voi effettuate una prova vi verrà fuori il risultato di partenza come vedete quindi lo abbiamo scomposto più o meno in maniera facile però prima va trovato il termine A e non è detto che riuscite a trovarlo subito in questo caso lo abbiamo trovato dopo 3 tentativi ma in alcuni casi magari lo troverete dopo tanti tentativi inoltre non è detto che il coefficiente direttivo del polinomio di partenza sia pari ad 1 questo ovviamente poi lo vediamo in dei casi successivi farò molti esempi sulla scomponizione di Ruffini perché è molto importante in quanto si utilizza anche abbastanza spesso cerchiamo adesso di effettuare un riepilogo di quello che dobbiamo fare e poi vi aggiungo una nozione molto importante quando dobbiamo prendere un polinome e scomporlo tramite Ruffini dobbiamo effettuare la seguente cosa dobbiamo trovare un divisore che divide perfettamente il polinome di partenza come facciamo a trovarlo? dobbiamo trovare il valore di A tale che ci tira fuori un resto pari a 0 utilizzando il teorema del resto di Ruffini dove lo troviamo A in generale? lo troviamo tra i divisori del termine noto diviso i divisori del coefficiente direttivo se il coefficiente direttivo è pari ad 1 lo troviamo semplicemente tra i divisori del termine noto quindi noi dobbiamo provare tutti i valori finché non ci viene un risultato pari a 0 la forma è del tipo P su Q come abbiamo visto prima una volta trovato il termine A dobbiamo utilizzare quel divisore nella regola di Ruffini dalla regola di Ruffini possiamo risalire al quoziente e quindi poi moltiplicando il quoziente per il divisore ci viene la scomposizione corretta ovviamente se noi riusciamo a trovare il valore di A tale che il resto viene 0 dobbiamo cambiare sicuramente metodo l'ultima cosa da dire che è molto utile è la seguente il metodo di Ruffini si può utilizzare in maniera iterativa che significa se noi andiamo a scomporre un polinomio di secondo grado allora se lo scomponiamo tramite Ruffini avremo sicuramente il prodotto tra due polinomi di primo grado questo perché il polinomio di partenza era di primo grado infatti il quoziente sarà abbassato di un grado rispetto a quello di partenza se però abbiamo un polinomio di terzo grado all'inizio è chiaro che il quoziente sarà un polinomio di secondo grado perché sarà abbassato di 1 rispetto a quello di partenza che era 3 quindi in quel caso visto che una scomposizione pulita tra virgolette rappresenta un prodotto di più polinomio di primo grado è chiaro che se il quoziente ci viene di secondo grado possiamo utilizzare nuovamente il metodo di Ruffini in alcuni casi in realtà la scomposizione successiva viene effettuata tramite altri metodi però nulla ci vieta di utilizzare nuovamente il metodo di Ruffini quindi in generale se noi ad esempio abbiamo un polinomio di quarto grado di partenza allora se utilizziamo il metodo di Ruffini una volta ci verrà sicuramente il prodotto tra un binomio di primo grado che è il divisore di Ruffini e un polinomio di terzo grado che è il quoziente quindi quel polinomio di terzo grado possiamo scomporlo ulteriormente ovviamente se possibile con questo video abbiamo terminato come solito se il video è piaciuto metti un mi piace commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao